Noi come Lega abbiamo innanzitutto fatto un ragionamento di civiltà, un ragionamento in cui abbiamo comunicato agli italiani la nostra posizione sin dall'inizio. Due argomenti sono per noi imprescindibili, su cui non facciamo un passo indietro e su cui non vogliamo nessun tipo di trattativa. Innanzitutto sul fatto che l'unione tra due uomini o tra due donne e quindi un'unione omosessuale non è un'unione prevista dalla Costituzione. La Costituzione dell'articolo 29 prevede che i matrimoni possono essere fatti all'interno di una famiglia cosiddetta naturale e di conseguenza fatta da un uomo e da una donna. E quindi se il Partito Democratico vuole modificare la tipologia di matrimonio deve per forza modificare prima la Costituzione e non illudere gli italiani. Seconda cosa molto più importante è il fatto che secondo noi la famiglia è una famiglia fatta da un uomo e da una donna e che si hanno la fortuna di diventare un papà e una mamma. E quindi la possibilità da parte di due persone di diventare genitori attraverso il modo naturale oppure attraverso l'adozione. Pertanto riteniamo anche in questo caso irrecivibile la proposta da parte del Partito Democratico di creare le cosiddette adozioni da parte delle coppie omosessuali. Ribadiamo una cosa, la famiglia è fatta da un uomo, da una donna e da dei figli. Quindi sotto ogni punto di vista noi possiamo trattare sul numero degli emendamenti, sui regolamenti, sugli statuti, su qualsiasi cosa. Ma su queste due cose diremo sempre no.